Benvenuti in questo video, sono Genova5 e siamo su CookCraise Vi devo mettere subito prima di iniziare con il gameplay perchè appunto devo andare avanti Ho già registrato un video su questo gioco prima di questo qua Solo che non mi è venuto registrato nello schermo quindi mi tocca rifare il video In più se avete visto lo scorso episodio avete visto che lo schermo era girato e mi ha registrato male il video Dallo scorso episodio c'era solo lo schermo girato Però c'erano dei problemi quindi non so se li hanno fissati, se li hanno sistemati Ho mandato un messaggio e spero che abbiano capito Adesso cercherò di non fare casino con quest'app perchè se non posso registrare più con quest'app Non posso registrare più con nessuna app perchè le altre app non funzionano Però ve lo dico perchè appunto voi dovete sapere queste cose Perchè se non mi date informazioni, mi aiutate con i video, non guardate i video, non mi spiegate come posso fare i nuovi prossimi video Io non so come andare avanti e mostrarvi i nuovi progressi, i nuovi giochi che voglio portarvi sul canale Voglio portarvi sul canale un sacco di giochi nuovi Solo che mi ci vuole molto di tempo e anche perchè i programmizzati non mi registrano bene Quindi provando altre 3 o 4 app non funzionano Solo con questa sempre funzioni però non sempre mi registra bene Anche avete visto appunto lo scorso video di questa serie che ha realizzato un po' male Lo schermo girato quindi tutta una serie di problemi che non dovevano avvenire Però adesso siamo qui quindi finchè andiamo avanti vi dico subito Finchè andiamo avanti con i video e che riesco a registrare Vi registro i video e andiamo avanti con le serie da telefono Sempre che non riesco più ad andare avanti non riesco più a registrare i video Stoppiamo le serie da telefono e vi porto le serie da playstation Perchè quelle da telefono che registra bene non posso portarle Poi devo anche vedere appunto le impostazioni Perchè appunto se devo registrare bene il video Senza che si impalli qualcosa o si incasini E anche vedere se i giochi riescono ad andare avanti Perchè se portare i giochi serve shoppare, serve comprare cose E non posso shoppare quindi non vado a shoppare i giochi E soprattutto non voglio shoppare i giochi perchè è un dispendere di soldi inutile E non ha senso andare a shoppare quindi vi consiglio di farlo anche a voi Però se volete shoppare siete ricchi fatelo Se avete soldi fatelo Però non è giusto nei confronti di altri che non ce li hanno Vabbè comunque andiamo avanti Scusate che mi stia registrando bene l'audio e il gioco Perchè se non mi ci sta bene l'audio e il gioco non andiamo bene Quindi cercheremo di sistemare le cose e vedremo di ovviare le cose Ok fammi prendere la ricompensa Ok 3 billette d'agento, 1 di cuoco e un cucchiaio Va bene Ma non c'è il copyright su quei giochi Non pensiate che ci sia il copyright e quindi non riesco a registrare i video perchè c'è il copyright Perchè su questi giochi non c'è il copyright Sono giochi normalissimi In cui dobbiamo andare avanti Quindi insomma dobbiamo riuscire a fare le cose L'importante è che non mi registri mai i video Perchè se già sono scarsi io di giocare Poi manca a registrare male anche il video Quindi non è affatto bene andiamo Allora nello scorso episodio che avevo registrato e che poi vi ho cancellato Quindi è un episodio che non avete visto E' il livello 55 Che avevo fatto L'avevo registrato Però avevo registrato male il video Proprio era scatti Cioè nel senso che non veniva registrato tutte le sequenze di video Vedete sta registrando Ok sta registrando Speriamo di se Se non si dice bene l'audio Se non si dice bene l'audio siamo fritti Anche perchè non posso fare troppi video Anche perchè adesso dovrei fare altre cose E non dovrei registrare il video Però devo registrare perchè non l'avete visto la settimana Quindi Mi sono qua per registrare i video Allora se andiamo nel ristorante Qui Se andiamo nel ristorante qui Vediamo che abbiamo due nuovi oggetti Possiamo dire E ho sbloccato il nanaimo Che è questo coso qua Stella Che è adesso Stella Prima era Cubetti Però è un nanaimo Che non so sia chi ci possia in Toronto Se sapete voi che cibo è in Toronto Me lo dite Io Grazie Apprezzo la vostra risposta E poi ho sbloccato anche la scordella per nanaimo Naturalmente io l'ho potenziale tutto al massimo perchè nel video l'avevo anche fatto vedere L'ho potenziale al massimo perchè mi chiedevano tante monete Tanti Adesso questo video durerà 10 minuti e basta perchè sennò non riesco a starci con i tempi Tanto Tanto Mi chiedeva tanto ora da prendere tante monete Quindi dovevo assolutamente potenziare il massimo perchè sennò non riuscivo a produrre abbastanza roba Infatti adesso servono 3 nanaimo a 3 secondi E ogni nanaimo vale 18 monete Quindi Va benissimo Va benissimo E' un potenzialmente di più Adesso Vi farò un livello Magari farò solo un livello Perchè appunto Non vorrei fare un video chilometrico Uno o due livelli Adesso vediamo quanto ci metto a fare questo livello Perchè se non riesco a passare questo livello E' difficilissimo Perchè se serve shoppare Non posso shoppare Perchè se questo è l'ultimo episodio sapete perchè non posso shoppare Perchè il video non vengono più registrati nel telefono Quindi Non posso andare avanti Va bene Livello 56 455 monete Combo E E non buttare via niente Perchè il livello del 45 era monete L'ho fatta monete perchè era Era un po' difficile E' stato un po' complicato da fare Soprattutto avete visto che appunto quello registrato Che E' venuto Cioè non riuscivo a passare il livello E L'ho passato Con tutte e tre cose Senza usare potenzialmente Quindi Tanta roba Vabbè livello 56 Vediamo Non c'è il copyright in questi In questi giochi Quindi non è impossibile che Non mi permetta di registrare i video Perchè c'è il copyright Perchè non c'è il copyright Assolutamente Vedi se non mi registra bene i video E' per colpa dell'applicazione Che non vuole registrare i video Perchè non funziona bene Quindi va bene Adesso speriamo che funzioni bene Perchè sennò Andiamo a mettere bene Livello 56 Se deve fare le combo eh 13 Clienti Ok Prepara tutto Prepara anche Nanna Imo Nanna Imo si prepara Abbastanza automaticamente Ok Farne altro Prepara questo Eh però ho perso No non ho perso Non ho perso Ok 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 Magari ho perso qualcos'altro Ok Ah ho perso cliente Ho perso cliente Secondo me non ce la faccio Ci provo lo stesso eh Però se non ce la faccio Non è colpa mia Io ci provo Ok Ok No non ce la faccio No ce la faccio forse Aspetta che forse ce la faccio Allora Tre di questi Questo E questo qua Poi sarebbe da servire questo Ma non l'ho fatto in tempo Ok Prepara dell'altro Nanna Imo Farne altro di questo Cosa Ok Devo fare combo Se ce la faccio fare combo Salvo tutto No non ce l'ho fatta Devo riprovare il livello Devo riprovare il livello Senza usare potenzialmente ovviamente Ho capito Si ma non posso usare potenzialmente Gioca Gioca e riproviamoci Durerai solo 10 minuti il video Farò un altro tentativo Poi basta Perché non so se registra bene il video Quindi per sicurezza Faccio solo Questo tentativo e poi basta Tanto inanna Imo ve l'ho fatto vedere È il nuovo ingrediente Allora prepara anche l'anna Imo Perché sennò Siamo secco Ok Per far altro questo Il fatto che mi chiede Nanna Imo È un po' Un po' A patatina Un po' a patatine Ok Mi ha attivato un attimo Ma ce l'ho fatta Ok Devo servire l'oro Attenzione Prepara altro di questo Ok Prepara questo qua Quattrocento su quattrocento e quattrocento e quattrocento e cinque Non so se riuscirò a passare il livello Però ci sto riuscendo a quanto pare Allora prepara questo Ok Ok Allora attenzione perché sto facendo un po' di casino eh Quindi notate che sto facendo un po' di Quindi Per far altro non è Imo Perché se voi se ne serve tanto Fatto? Ok ce l'ho fatta Se non è venire lasciato il video Perché sennò È da buttare il video e non va bene questa cosa Vedete quanta fatica faccio io per fare il video al telefono E anche da playstation ho fatto un po' di fatica Però I telefoni sono un po' complicati Adesso la pubblicità Non pagata Mobile legend Non voglio giocare a mobile legend adesso È Lord mobile volevo dire Vabbè confondo i giochi però Lord mobile Vabbè comunque Pubblicità i giochi occulti Non parliamo di questa cosa perché è poco importante Visto che l'importante è che mi registri bene l'audio Il gioco E non mi registri altre cose Non mi registri lo schermo girato Che sennò è un casino Infatti faccio solo questo livello Perché ho paura che mi registri il video male Quindi devo Devo registrare bene le cose Ok Avevo sbocato il 57 Vediamo il 57 che sei a tempo Vediamo se sei a tempo Fate un po' di riprendere le ricompense Che adesso vanno da sole però Devo aspettare il tempo che riprendere le ricompense Ho il 57 con me 24 piatti Allora è facile come un bel livello Il 6 A combo sempre Devo fare le combo Beh se mi da tanti clienti Se riesco a fare le combo Beh allora il prossimo ingrediente Si sblocca il livello 61 Adesso faccio vedere 61 Che è questo Questo qua 61 E questo qua 61 Quindi probabilmente sarà l'ingrediente E la sottola per l'ingrediente Quindi Saranno due cose così Tipo come il nanaimo Che ha fatto il nanaimo Più la scodella per nanaimo Questa qua Quindi ha fatto un Così Una cosa del genere Sarà così Probabilmente una variante Sarà la variante Forse Oppure vari ingredienti per nanaimo Potrebbe essere così Una cosa del genere Non lo so Vedremo Vedremo nel prossimo episodio Perché adesso Andrò avanti off camera A fare fino al livello 61 60 61 Dipende se mi registra bene il Adesso mi va un po' a scatti gioco eh Quindi è un po' un casino Registrare i video a telefono Però ci sto provando Notate l'impegno che vi sto portando i video Quindi guardate i video Perché è fondamentale Poi Vi dico ancora che Ho paura che mi registra male il video e l'audio Quindi speriamo che vi venga registrato bene Speriamo che ci sono casini E speriamo che tutto si risolve Perché registrare in questo modo E' una tortura E' uno sfinimento Che è impossibile da fare Adesso Magari dopo questo Non vi registro un altro video Perché E' già tanto che mi ha registrato un video Quindi è casino Quindi vabbè Farò il 56, 57, 58, 59 E il 60 Devo vedere quanto si sblocca il 61 Perché se mi sblocca il 61 Al secondo livello 60 O al primo livello 60 Non devo fare il livello 60 Perché devo aspettare voi Per farvi vedere il progresso Quindi va bene Spero che il video vi saluto bene Se tu hai bene registrato Che voi abbiate apprezzato Quindi lasciate un commento Per dare la vostra opinione Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video A presto A presto A presto Se no E' da buttare il video Quindi considerate questa cosa Il rischio che il video Non venga registrato bene Quindi Datemi un premio Datemi una soddisfazione Aiutatemi col canale Quindi Aiuto e per favore Siete attivi Perché dovete vedere i video Perché se no Non andiamo avanti Perché se non guardate i video Non ricevo niente Quindi non posso andare avanti Per questo motivo Naturalmente adesso non guardano niente Però Più avanti potrei guadagnare qualcosa Quindi sarebbe Sarebbe bello Sarebbe una cosa carina Sarebbe Uno scopo in più Però Non lo so Dipende da voi Dipende da voi Dipende dall'applicazione Perché se mi registra male Io che ci posso fare Che ci posso fare Io me le vento le cose Non me le vento Io aspetto voi E aiuto Perché non è possibile Registrare in questo modo Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Quindi like, commento, condivisione Iscriviti al canale E noi ci vediamo al prossimo video A presto